Formandi è stata creata come manifestazione per cercare di valorizzare i formaggi dal peggio soprattutto dal punto di vista della ristorazione e dei negozi. La ristorazione è di altissima qualità che riesce ad apprezzare i formaggi particolari che sono praticamente le riserve di quel prodotto che viene fatto in Malga durante il periodo estivo negli alpeggi del frio Venezia Giulia. Ci è sembrato molto molto simpatico l'idea di riuscire a creare un'asta fra i ristoratori proprio per riuscire a giudicarsi le migliori forme di formaggio del 2018 ma anche quelle del 2017 e del 2016. È molto bello perché così si vede quando i ristoratori veramente ci tengano e quanto ci tengano ai loro clienti perché portano veramente un grandissimo prodotto in tavola e quindi non solamente tecnica che è sempre alta alla loro non solamente parole ma anche prodotto e anche concretezza. Grazie a tutti!